ah che bella puzzetta lucky block caccolosi contro lucky block di diamante chi vincerà laio ma cosa c'hai in testa cos'è quella cosa una cosa un po' bizzarra non è vero mi sto guardando non c'ho niente ma c'è una cosa in testa ma c'hai una cacca in testa ma tua madre ma come ti permetti di dirmi questa cosa pervertito ma non è vero guardate mi sto vedendo bene mi stropiccia un po la faccia così stropiccia non c'ho niente ma ma siete pazzi io non voglio farlo con te io non lo voglio fare con annanna dammi un abbraccio vieni qua silenzio oggi giochiamo con i lucky block poveri di cacca contro quelli ricchissimi di diamante di ricchezze e di là ci saranno cose goduriose da noi ci sarà la difficoltà la povertà il nulla ma noi saremo forti ann e non ci faremo perdere d'animo a te ne devi fa capire perché quel giorno in cui scegli di giocare con me mi porti a fa il lucky block di cacca si anna tutti sono molto più belli noi andiamo nei nostri ciao ciao anna ricordati che alla fine trionfaremo noi ma ovviamente giocheremo ma qui proprio non c'è niente non si parla di questo noi vinceremo brava brava però tu stai di nuovo zoppicando ann non claudicare perché io ti porto una volta con me mi inizia a claudicare allora aggiustati attrinzati tutto sono attrinzata e aggiustata avevo solo passate ma le ultime che succede da voi però era poco ma sei resistente però era poco questo ok ho buiato ho buiato tua madre tua madre malus li ragni della cacca qualcuno mi dice che schifo non sapevo che i ragni vive solo una cacca ma tua madre ora è in barca no laio si è già morto ma ti sono saltati addosso in venti delle cacche mi sono saltati delle cacche con le gambe che schifo mamma mia cioè io ancora non ho aperto niente il portato di uh lucky block boni no un corno perché altri lucky block cioè eh ma questi sono fortunati eh guarda qui oh io apro il mio primo eh perché ancora non ho aperto brava oddio amici però state a far mercato qui streccato in particolare non riesce a trovare il tuo posto al mondo eh ne ho fatto un mercatone eh bravo e questa è la cosa che dici sempre è sempre questo dici eh che schifo la cacca la io non ho un problema eh che è successo i cacchi qua c'è le cacche striscianti cacche e slenderman oh te le aggiusto io quelle cacche Anna non ti preoccupare ecco qui tutte morte ci pensa il tuo fidanzato oh voglio iniziare ad aiutare anch'io là con le cacche oh grazie mille sei proprio carino Alex ma lo sai che invece da noi è stupendo è tutto così ricco e bello scusate eh ma Alex tu ti sei sentito quello che hai detto ho detto che voglio iniziare ad aiutare io con le cacche eh ma non si è capita una parola è veramente inappropriato a parte che fa schifo oh no non volevo però cioè io te lo dico eh sei indecente poi c'è un signore megalomane non muore slenderman aiuto Anna ma ti vuole abbracciare ti sto provando è morto è morto Anna fagli male Anna e ci provo non armi questo è un figlio oh ok andato 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 oh Ale no andato avevo portato un tono eh bravo portami ti ammazzo anche tutte l'esercito no gli erupetti non me ne frega niente sono malvagio io io ho trovato io ho cittato un tono una spalla di legno che fa schifo Anna stai attento si è inseguita da una cacca bruttissima lo so madonna mia stiamo morendo troppo ma c'è veramente stile a Chiblock sono un tormento eh stiamo morti anche noi tante volte però io ho trovato anche delle buone cose in particolare un piccone che si chiama Drillmaster che scava la cacca oh no quello e poi un diamante non compresso tradotto un carbone quindi posso perlo io ti prego sembra molto bello e lucicoso si vieni a tradarmi qualcosa certo arrivo ma guarda però me lo devi trattare bene perché oh questo diamante non compresso diamante non compresso non compresso non compresso quindi ancora più prego dammelo 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 eh fammi vedere cosa c'hai te però perché io non ho è una cosa un po' carina ma non so se dartela dai suona dai a vedere è una cosa però è molto povera quindi non so se ti piace eh mi piace mi piace mi 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 accontento dai mi accontento dai cambiamo vai vieni oh grazie grazie vieni qui vieni che la provo ho fatto una farone aspetta che buona buona dai però buona 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 interessante questa eh guarda Alex brutto cattivo me l'ha regalata stregato dai io non puoi venire dammi ad uccidermi no no aia hai visto bella io non ho scoperto una cosa bellissima torna sulla nostra isola vieni un due tre mi sono pentito di brutto cinque sei hoppla poppla hoppla ma sono in squadra con te cretino alla fine della fiera siamo tutti nemici quindi io non guardo in faccia nessuno e spado spado come un pazzo vabbè allora non ti dico cosa ho scoperto no ma io scavo guarda qua guarda qua Anna guarda qua dell'oro tanto eh buongiorno quello ti volevo dire io ah l'ho scoperto da solo ma perché sei dico pure tu non vale non è vero che l'oro non c'è più però i nostri sono grandi perché i tuoi sono ricchi era finto perché in realtà non era oro non ho preso nessun oro io da qua ti sta bene ah che bello eh però adesso guarda com'è arrivo con un dono dove stai andando ma io capì sto piccone qua rompe tutto e non ti dà nulla quindi è uno scam non ci posso credere è una truffa buttalo via per carità eh lo butto via però mi sa che hai un altro piccone adesso sì sì c'è l'ho eh ma guarda che casino Anna sono bloccato nella cacca aiuto arrivo arrivo sono vivo ma è terribile questi lati dove sei che sei vivo ah ecco di qua sono degli scambi ah sì ti è no ma dai ma prima potevi farti da quello che t'aveva dato hai ragione scusami puoi tornare guardo puoi tornare grazie Anna che gentile però sei addormentata non è possibile ma allora non è che sono addormentata sono offesa perché per una volta che siamo scuola tu mi accoppi Anna allora è vietato essersi offesi è vietato io voglio sentire da te con te è l'unico stile di vita voglio sentire da te un tripudio di gaiezza di gioia oh ma guarda un villager ti ha tutti contenti cosa venderà questo villager felice oh beh che schifo vieni a fare scambi vengo a fare scambi con te cosa mi vuoi offrire io ho una cosa da scambiare chi ha rotto il mondo chi è questa pezza guarda che hai riempito tutte le cacche hai riempito il buio e le cacche le cacche al buio Anna ti piace cagare di notte ma che schifo che fai Anna datti una regolata occhio non è colpa mia maialazza che non sei altra bene allora a modo dei termini non c'hai da scambiarmi Anna non farmi arrabbiare allora Alex ti posso dare questo piccone bellissimo oh mi piace questo qui però con lo scavatore di prima moltiplica le cose molto buono fortuna XX carica cosa c'ho io si cosa c'hai un ventaglio vabbè fammelo provare dai ti dico è buono allora ventaglio prezioso arma comica ok che fa aia oh no sto vomitando stai vomitando ma che schifo dimmi da nausea lente aia di nuovo ho capito è tipo una coda di pesce quindi praticamente ti fa venire la nausea perché sei stata colpito da una coda perché puzza sì Anna dovrebbe concentrarsi un po' più su quello che succede invece di fare danno allora non è colpa mia io cerco di andare avanti no no io sento sono esplosioni dalla sua isola io non ce la faccio più io con te non ci vengo a giocare mai più no sono io che non ti invito più perché sei stupida e inutile eh questo è superman no eccessivo questo allora a me è spawnato un iron golem che si chiama superman e fa malissimo perché e ti sta bene ti sta bene mi prego voglio vederlo ma è un'infa guarda come corre zoppica è tutto pazzo per fortuna è morto no non ci posso credere non è arrivato per salutarlo e oltretutto ti sta talmente bene che io non ti do neanche quello che ho scoperto posso prendere la sua armatura no le gacchie le gacchie le gacchie viventi quella è vestita pure cos'è la festa oddio mio è il suo compleanno è la festa della cacca Anna no Alex mi risocio che schifo Alex perché la festa della cacca eh che schifo è perché era vestita c'è ma Alex oddio quanta esperienza che hai ah ne vuoi un po' si ahia eh la volevo ha preso l'esperienza in qualche modo non prende sei troppo aggressivo però mi so stufata no no però l'esperienza è tutta Anna ma no ma no allora non si può fare con te però così eh che sei contro di me questo era il dono che volevo darti tu arrivi qui e mi pezzi io non ti do i doni ma io ho un regalo chi ha rotto il mondo chi è stato colpa mia colpa mia aiutatemi ascolta schifoso lo fai un'altra volta ti abbandono non lo ho fatto mai in orfanotrofio ti lascio no no ti giuro non ti vengo a prendere mai più allora Anna dammi ma allora allora lo spado un problema chiamato slenderman forse allora venite a aiutare forza che è fortissimo vai via bruttone aspetta Anna madonna è fortissimo lo spado con questa è forte oh lo sto guardando io lo sto guardando io hai visto ti ho aiutato di brutto si si sei utile come tutti i giorni della tua vita cioè non serve a niente però ti ho dato un bel cappellino puoi darmelo oh ma questa che cos'è oddio cos'è oh mio dio no 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 allora si chiama la meraviglia dell'unico colpo che è a disposizione alluting un milione eeeh vabbè che buonissima stre vieni qui vediamo cosa droppi vediamo cosa droppo ah vai che è successo no ma come cioè deludi anche nella morte ma ti rendi conto perché ci devi picchiare i mostri mica stre eh non è un mostro tagli e tagli ad uscire da qui grazie Alex che gentile che sei sono un gentile l'uomo proprio però non sto uscendo io ancora e sono dall'altra parte io ah eeeh ok libertà grazie grazie che tristezza però Alex ah non sono stato io sta dannato io non ho un fucile vai vedere Anna che cos'hai da scambiare dai sono curioso ecco qua ok che cos'è questa qui è una spada una spada sgocciolante ma che schifo ma perché me la dai ma è buona almeno siamo poveri ahia veleno veleno fortissimo veleno è buona ma senti ma tienila tu io ho già una spada così anche tu sei buona io ho anche questa questa qui la puoi provare ma come è possibile che ti hai messi benissimo voi ma ti hai messi malissimo non vale questa cosa qua fa vedere anche quella di ferro che hai che magari ha qualche incianto spaziale come quella di prima eeeh beh buonina però è più interessante quella che è velena secondo me è molto più buona devo dire però Anna che a noi stanno andando a finire tutte le risorse a fan bagno perché non stiamo trovando praticamente nulla a parte quei blocchi d'oro che ti ho dato io io non ho niente però possiamo sopravvivere con quei blocchi uuuh ma tua madre porca miseria che cos'è successo a te c'è un eretico è arrivato Bobbo un eretico cosa vuol dire ma che adesso c'è un eretico pazzo qui aiuto dov'è l'eretico oddio Anna aspetta ti aiuto questo pozzo di lava ma ha rotto le scatole madonna ma guarda pure lascia in diamante maledetto erotico che non è altro voleva era un eretico voleva 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 darci quest'ascia in testa era maledetto questo erotico ma si è rubato il cappellino l'ho visto cosa hai fatto cosa sei non so la scimmia beluca scimmia scimmia riportalo subito qua no subito perché ti giuro ti caccia che poi era l'eretico erotico maledetto che non sei no non ho detto questo tu non sei quello Alex tu non sei per niente erotico ma proprio per niente sei il contrario ecco il cappellino ti è tu sei l'anti l'anti erotico no allora che schifo non voglio sapere che cosa può essere comunque la spada in diamante forse è buona sì ma Anna però non puoi Anna sta parlando malissimo in questo video eh sta essendo insopportabile Anna inizi a dire una cosa ti fermi da sola ne cambi argomento dove sei vieni qua vieni qua qua allora la devi finire subito stai essendo un chiodo nell'ano io non ti sopporto se fai così eh ti prego basta richiamiamo l'eretico io ho portato dei doni vai nell'angolo rifletti vuoi i doni no vai in un angolo rifletti metti questi ma porca e vedrai che mi ringrazi belli belli però vai in un angolo rifletti su ciò che hai fatto e torna subito ok Alex vieni qui che ti devo ringraziare ti devo ringraziare oh che bello anch'io ringraziamenti sono stato bravo allora ammazza quello là che è venuto e non l'ha chiamato nessuno però mamma mia via no no ti prego ma sei il mio compagno di squadra cioè dà una fastidio ci ha portato pure Bob guarda oh che bello attento perché è un Bob di cacca quindi particolarmente pesante vai tu Alex vai tu alla pazza gioia attacco con un piccone vai alla pazza gioia Alex vai 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 non ne faccio niente vai di più Aia ti ha ammazzato ammazzato bravissimo complimenti e Bob è potente ho le cacche ancora Anna cosa fai tocchi le cacche non ho fatto niente io non ho fatto niente Anna non piagnù Anna cosa ti ho detto prima e devo tornare più patente di prima e sono patente ma sempre più povera e Gaia non ce la faccio cos'è ma tua madre cosa fontire ero bravo di cacca allora io ho visto solo sto pazzo che correva come una furia e si buttava del tutto mi ha avuto mi ha avuto di brutto però ho notato che siamo in una situazione particolare Anna ha 12 morti Alex 11 Lion ha 8 morti e strecato 7 quindi ne hanno una in meno ma perché io sto scappandola tutto il tempo opla ha resettato la sequa Anna dobbiamo ammazzare è strecato una volta vai va bene vado guarda che mi sento vai come una pazza all'uso l'odore di strello sento puzza malamente quello lì come una pazza Anna vai dagliele vado dov'è eccolo lì dagliele 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 seccalo 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 andate via andate via dalla mia isola lo secco ma io per chiamarli ti prego brava va bene tu ne hai dato fuoco attenta Anna non morire tu però Anna no Anna scappa sull'isola nostra andiamo 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 ma perché ci sono tutti sti feverfish brava vai adesso vengo a vendicarmi vieni qua vai aspetta non è possibile cosa volevi fare tu volevi vendicarti è cattivo brutta cosa brutta cosa ho un dono gigante tieni un altro guarda ecco qua guarda che non è che riempiendomi di regali migliori devi fare brava nel video non regalare regalare allora io perché sono sempre convinto che siamo in squadra insieme quando poi non è vero ma questo qua è pazzo ma che sfidate che problemi ha scolta prima di tutto cosa ci facevi qui adesso devi morire una volta tu dove sei vieni qui vieni qui hai perso tu quello vieni qui lei ha perso te mi stavi guardando mentre io lo aprivo e quindi hai portato male eccomi qua vediamo come arrivo là che non c'ho niente ecco qui aspetta ok ma che succede ma perché vi pestate di continuo oh no cosa ho fatto non vedo nulla aiuto amici cosa sta succedendo no no sta arrivando il rinforzato il rinforzato chi è il rinforzato ma cos'è il ragno rinforzato il lettino di Alex oh no il lettino oh no basta ma porca di quella vacca sentite basta così questi lucky block di cacca sono veramente di cacca ma proprio di cacca non ti lamentare aiuto non toccare vedro vedro guarda ti giuro sei veramente stupido ma veramente stupido ma perché mi devi ammazzare sempre sono morto 855 volte perché sei stupido vieni qui ma chi t'ha chiamato io non t'ho chiamato ma io voglio stare con te vicino vicino ma vai a che gare non li toccare perché sono pazzi sono pazzi scambiano ho dei retici no questi no però hanno un'armatura bella questi eh anche buona però forse è meglio quella che compriamo ma è possibile prendergli anche una spada delta sword omega è assurda ma questa si scambia con i beacon ma io ricordo che noi avevamo dei beacon Anna hai un beacon si nel pozzo nel pozzo prendo il pozzo e ogni a uno se vuoi te lo regalo anche anch'io ce n'ho uno ascolta ma siamo contro sì ma magari lo vuoi ma io non non mi devi aiutare ma io voglio essere gentile magari tu mi dai un altro dono in cambio non ti so niente e poi non era gratis eh no non te lo do più eh ma chi te l'ha chiesto ce l'ho Anna ce l'ho ce l'ho secondo me è potentissima questo qua questo è lo stratega della battaglia pisellone proprio buono vediamola vieni qui è buona è buona questa spada bella bella interessante mi piace la voglio anch'io la voglio anch'io ok è arrivato il momento di velocemente commerciare amici quindi sbrigatevi andiamo a scambiare ok io c'ho abbastanza diamanti tu Anna come sei messa invece insomma un po' schifosa in realtà allora io ti ho già detto molte volte tu mi devi rispondere a versi stavo guardando mi devi dare il tempo di valutare oggi non ne stai facendo una bene una io non capisco perché mi odi ma perché fai schimacco è colpa io ti odio si tu mi odi ma invece di fare così perché non fai meglio eh perché non lo so perché mi confondi perché non sono abituata al mio compagno di squadra che mi pesta lo vedi lo vedi che io non devo mai fare squadra con te perché fai schifo lo vedi te ne rendi conto la prossima volta fai squadra con me lo capisci da sola che con te non si può stare perché fai schifo ora io mi sto arrabbiando Anna mi sto veramente arrabbiando e poi voglio andare in esilina non ce la faccio più uno cosa ti dice ah hai fatto schifo ecco il bagno ecco il bagno malus malus e boob chi ha portato boob boob vuole avere me aiutatemi senti eh smetti di attizzare la cacca per favore oh e magari mi voleva male da prima l'ho visto io vai schifo Alex non attizzare la cacca ho bisogno di un'armatura tu hai bisogno di un'armatura no bene ciao ma perché vedi che sei tu che sei odiosa lo vedi che sei tu che sei odioso io mi sono impegnata tutto il tempo cercando di fare cose bene tu non hai apprezzato e adesso ti sgonfio di sbadate sì sì no mi sembra eccessivo e poi siete in squadra non dovete farlo scusa perché l'armatura vostra è di ice e la nostra è di pelle la nostra è molto meglio più meglio eh ma io mi prendo la vostra però perché mica so scemo no io me la so presa non prenderla eh scusa eh cioè abbi pazienza ma non vale non riempio pure di monnezza non riempio pure di monnezza sono proprio un puzzone allora io vado a prendere un'armatura da voi eh fai sì sì vabbè guarda non è che ti convenga tanto eh però oh guarda che profuma pure vai vai ma te la prendi eh ma te la prendi no 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 ma che schifo è sì sì comunque no voglio prendere l'altra no no ma ti prendi quella ma ti prendi quella ma ti prendi quella hai detto tu tutta 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 dai Alex prendi l'armatura e voglio menare le mani io eh sono bello carico arrivo io eh arrivo con l'armatura ma pure il nostro mercante sembra messo male ha vissuto giorni migliori poveraccio ma mai visto a me come so conciata per favore sì sei una cretina ma ti sta bene perché tu tutto il video hai fatto la cretina ma sei anche uguale a una cretina ho detto tutte le mie ricchezze a te se tu hai comprato quella roba è grazie a me quei pantaloni sono grazie a me quelle scarpine sono grazie a me allora da me avanzano eh comunque toh comprati l'armatura bene vai vai quanti soldi avevi stai detto no vabbè non pari oh ma stai pronto perché guarda che qui prendi una susa io sto pronto ma io qua ti rompo allora guarda sai cosa faccio io metto anch'io l'armatura uguale alla tua così sarò più figo vabbè così siamo più belli proprio ma è allora adesso sei pronto Anna sei pronta ok allora round numero uno io versus Alex Nautz sei pronto che c'è sto pronta eh ok anch'io sono pronto tre due uno bombazza oh dio mio che cavolo era cosa vuoi che ti dica la potenza del nostro armone alla due si si facciamo un'altra facciamo un'altra ma prima mi sento di consigliare a tutti i ragazzi a casa di andare alla fine di questo video in edicola e comprare le nuove card sopravvivenza estrema ma quelle super epiche si sono epiche sono bellissime cento di queste carte sono autografate da Lion quindi se siete ultra fortunati potete prendere una di quelle carte tu Alex hai un mio autografo io le vorrei no purtroppo non ce l'ho perché sono sfigato però puoi mandarcene allora non te le manderò se la trovi bene se non la trovi ti attacchi al tram guarda questo pinguino nucleare e per trovarle le devi comprare e questa pesca artica dove sono io che pesco come un pazzo e la duplicazione dei pani e dei pesci come Gesù ma queste carte sono veramente divine divine sei bravato Alex ok 2 di 3 ok 3 2 1 ok vai Alex uccidilo mi vuole avere mi vuole avere va bene vieni ad avermi perché non vieni ad avermi arrivo maledetto cosa hai fatto ma che vuol dire scusate come una spadata ma questo gioco non vale strecato è il tuo turno pronto 3 2 1 sì Anna via via perché te ne vai vieni qui ah che schifo questo avvelena Alex è molto maleducato il tuo ha puzzato puzza come sempre queste puzzette ok aspetta che me lo lo sistemo io ma no non prende è molto è molto zozzo è molto zozzo prendilo Alex il tuo compare è più forte di te infatti non vale no no malissimo malissimo ho una bella ok scusa ma non abbiamo il tempo di fare un secondo round contro te ma non avevo un altro tentativo tanto morire non ce l'hai sono pronta dove sei eccolo 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 e va bene bacia hai cancellato ok Anna sei pronta 3 2 1 e non ho detto via ma va e va bene adesso è via ah non t'ho presa no 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 dai vieni vieni fai questo confronto uno versus uno dai vado ci sono ti confronto dove sei sono dietro di te sono dietro di te vieni qua non è vero vieni qua nina arriva la bombetta no mamma mia per un telo dove sei vieni qui Anna dai su piccola rana saltatrice eh cercami dove sei scappa via Anna scappa via allora io ti sto cercando sei tu che scappi da me cosa sei no non ho preso attacco frontale come un pazzo come un pazzo no no che figa quella spada quella spada è rotta però eh quel villager ha fatto il male a vendermela non avrebbe mai dovuto vendermela beh devo dire che sono il vincitore hai visto vai è stato facile però ringrazio i miei contendenti perché senza di loro non ci sarebbe stata una bella sfida Anna ecco questa cosa non doveva succedere ma se ce l'avevi perché non l'hai usata ha avuto una pentetta perché non l'ho fatta in tempo a usarla che sega signore e signori che sega ti vuole maestria ad usarla che sega a motore che sega e c'hanno tutto l'inventario pieno per quando passiamo senti cos'è è un motore di una sega non mi fare il verso hai capito non mi fare il verso per oggi ci fermiamo ci vediamo in live stasera alle 19 sul sito vi ho la link in descrizione nel primo commento e Lion out ciao